Cosa comporta per Giorgia Meloni, e arriviamo ai temi del tuo libro, dover affrontare il nodo delle armi all'Ucraina in una maggioranza che tiene dentro Silvio Berlusconi e Matteo Salvini? E dopo vedremo cosa comporta farlo in un paese che secondo tutti i sondaggi è contrario all'invio delle armi in Ucraina. Eh, ma è proprio questo il problema, che lei ha due alleati che sono chiaramente putiniani, non sono pacifisti, sono putiniani, e poi ha un elettorato che è in grande parte pacifista e non putiniano, questa è la differenza, gli italiani con Putin sono il 7%, un'esigua minoranza, gli altri non stanno con Putin, però poi quando si dice che cosa bisogna fare sulla guerra, eh beh la pezzano liberamente, perché dopo un anno di menzogne hanno capito, molto prima di molti intellettuali e di molti giornalisti, di molti politici, che non ci stanno dicendo la verità, che ci stanno prendendo in giro, che ci sono altre ragioni per cui stiamo mandando le armi oltre a quella del solito mantra che c'è l'aggressore e l'aggredito, e che ci sia l'aggressore Putin e l'aggredito Ucraina, lo sanno tutti, lo dicono tutti e condannano tutti l'aggressione, ma dopo un anno si domandano come ne usciamo ripetendo all'infinito che c'è l'aggressore e l'aggredito, oppure trovando una soluzione negoziale, guarda che questa storia non mette in difficoltà solo la Meloni, mette in difficoltà tutti i partiti che finora hanno votato disciplinatamente per le armi, perché sta aumentando nell'opinione pubblica la sensazione che quello che ci dicono non è vero e che c'è qualcos'altro che non ci dicono di vero. Molti pensano che il Parlamento vota ogni mese o ogni due mesi l'invio delle armi, non è così, il Parlamento ha votato una volta per tutto l'anno scorso, il primo marzo del 2022, un decreto che autorizzava il governo Draghi a mandare armi ogni volta che voleva, senza dirci quali, perché in Italia è segreto l'elenco delle armi, Germania è su, è online, in America è online, in Italia lo sa solo il Copasir che deve tenere il segreto. Adesso, all'inizio di quest'anno, la Meloni ha fatto un decreto gemello che autorizza il governo Meloni a mandare armi, quelle che vuole, quando vuole, per tutto l'anno 2023. Il primo decreto il governo Draghi l'hanno votato tutti, tranne credo Fratoianni e all'epoca ex Cinque Stelle, che erano già usciti. Questa volta l'hanno votato tutti, compresa Lashlein, anche se il segretario era ancora letta, tranne il Movimento Cinque Stelle, posso sbagliare, Sinistra e Verdi, cioè Fratoianni e Bonelli e poi alcuni singoli dissidenti del PD. Questa cosa qua mette al sicuro Lashlein, nel senso che per il resto dell'anno potrà fare delle belle chiacchiere, delle belle supercazzole, ma ormai il governo per tutto l'anno ha messo al sicuro il proprio potere di mandare armi in segreto all'Ucraina quando vuole e quali vuole. Chi sono gli scemi di guerra? Qui c'è stato un grosso equivoco, gli scemi di guerra non sono quelli che mentono sulla guerra, quelli sono quasi sempre furbi di guerra, perché ci guadagnano. Gli scemi di guerra sono quelli che ripetono a pappagallo quelle bugie senza rendersi conto di quanto sono ridicole e quelli che ci credono. Pensiamo ai popoli, compreso il nostro, tutti noi europei, continuiamo a ripetere o a farci raccontare che ci vuole una politica euro-atlantista, che bisogna seguire gli americani, gli inglesi, i polacchi, la parte più oltransista e più bellicista della Nato, quando è sotto gli occhi di tutti che una guerra lunga nel cuore dell'Europa conviene probabilmente ai russi, conviene probabilmente agli americani, ma gli unici a cui non conviene sono la popolazione ucraina che ci mette i morti e noi che ci mettiamo i soldi. Quale euro-atlantismo? Euro è una cosa, atlantismo è l'opposto. Allora c'è indubbiamente, e l'abbiamo visto anche nei sondaggi precedentemente, una maggioranza degli italiani che dice guardate smettiamo di mandare le armi in Ucraina, abbiamo il cartello lo facciamo rivedere appena lo manda alla regia e c'è un dubbio però, come mai gli italiani contrarre le armi, ecco guardate questo è l'Ipsos per il Corriere della Sera, favorevole all'invio di armi in Ucraina, no 45%, sì 34%, però poi quando vanno a votare gli italiani anche nelle ultime elezioni confermano la fiducia ai partiti più fortemente orientati per mandare le armi, per Giorgia Meloni, per Fratelli Italia, gli italiani ragionano in un modo fuori dalle urne e in un modo dentro le urne. Semplicemente quando vanno a votare le elezioni italiane non vanno a votare sull'Ucraina e sulla Russia, sono i nostri giornali che per mesi ci hanno detto che chi votava in un certo modo favoriva Putin e chi votava in un altro favoriva Zelensky, gli italiani quando vanno a votare pensano ai loro interessi, non pensano all'Ucraina o alla Russia. Dopodiché hanno premiato il partito che stava all'opposizione di Draghi, evidentemente speravano che una volta andato al governo facesse qualcosa di diverso, non che facesse proprio le stesse cose sulle cose fondamentali. Allora andiamo a vedere nel concreto gli atteggiamenti di un governo a favore dell'invio delle armi. Dice Giorgia Meloni, cartello 42, l'ha detto ieri da Bruno Vespa, nella trasmissione Bruno Vespa, non spendiamo soldi per comprare le armi, abbiamo già armi che riteniamo di non dover utilizzare. Quindi la cosa è a costo zero per Giorgia Meloni. È vero quello che dice e perché lo dice dal tuo punto di vista? Non è vero assolutamente perché se noi mandiamo sistemi di armamento come il Samp-T che mandiamo adesso, che è un sistema diciamo contraereo, dobbiamo sostituirlo perché non ce l'abbiamo più e prima ce l'avevamo in dotazione. Infatti stiamo moltiplicando la spesa militare. Basta sentire le audizioni che il Ministro della Difesa o della Guerra, Rosetto, ha fatto in commissioni dove ha detto che bisogna aumentare la spesa militare e anche in quello ha ripreso Draghi là dove era stato stoppato da Conte un anno fa. Portare al più presto la spesa militare verso la quota del 2% del PIL annuo, il che significa per noi spendere ogni anno una quindicina di miliardi in più rispetto a quello che spendiamo adesso. Altro che nessun costo per le tasche degli italiani. 15 miliardi in un momento in cui non abbiamo nemmeno gli occhi per piangere. È una follia. Infatti il Papa disse che i governi che aumentano la spesa militare al 2% del PIL sono pazzi. Il sottotitolo del tuo libro, un paese pacifista preso in ostaggio dai no-pax, c'è un dubbio? Allora ci sono molti che nei partiti fanno, diciamo, Berlusconi e Salvini sono il più delle volte apertamente, almeno lo sono stati in passato, sono apertamente sensibili alle questioni portate da Putin. Vi faccio vedere il cartello 15, Berlusconi giudica molto, molto negativamente il comportamento di Zelensky e Salvini che dice la guerra non finisce con i missi né con la vittoria di uno o con l'altro. Tutte posizioni che però scompaiono nel momento di prendere posizione istituzionale, presizione pubblica, di votare per l'invio delle armi oppure di prendere una posizione davanti agli altri paesi. Perché scompaiono questi afflati, queste posizioni differenti dalla linea ufficiale scompaiono al momento del dunque? E' per quello che ti dico che non sono pacifisti ma sono putiniani, perché quando parlano sembra che debbano dare qualche rassicurazione e qualche messaggio a Putin. Dopodiché, quando si tratta di scegliere se far cadere il governo e quindi perdere le poltrone che hanno sotto le terga oppure no, decidono che è meglio di no e quindi alla fine votano. Però è chiaro che quando Berlusconi e Salvini parlano non c'è soltanto il loro putinismo, per me inaccettabile, ma c'è anche quel radar che i politici più sensibili hanno nei confronti di un'opinione pubblica che secondo me in maniera crescente manifesta insofferenza e nello stesso tempo incredulità rispetto al fatto che dopo un anno siamo ancora qui a ripetere gli stessi mantra, a mandare le stesse armi senza sapere dove andremo a finire, qual è lo sbocco, qual è la strategia. Perché c'è un grande rimosso che si chiama nucleare, che nessun opinionista nomina mai perché improvvisamente hanno deciso che Putin che prima dell'altro giorno era pazzo adesso è talmente saggio che non userà il nucleare, quindi secondo me sopravvalutano un po' la saggezza di Putin, quelli che gli davano del matto, però nello stesso tempo il nucleare è sempre lì, perché è una guerra tra una potenza che ha 6.000 testate nucleari e un'altra che ne ha zero. Allora due dubbi però ti pongo, il primo, uscire da un sistema di alleanze come quello che sta sostenendo l'Ucraina nella resistenza contro l'invasione russa non implica solo una posizione politica, implicherebbe essere isolati rispetto a un sistema cui siamo legati per ragioni non solo politiche ma anche ideali e forse anche e soprattutto economiche, pensiamo solo all'effetto sull'Europa dell'euro, di un'uscita dell'Italia da questa posizione, può essere che siano più responsabili i partiti e pur sapendo di dover andare contro l'opinione pubblica maggioritaria, tengano alla tenuta del Paese per ragioni complessive. No, tengono al fatto che non si può governare contro il volere degli americani, perché chi governa contro il volere degli americani di solito salta. Però forse perché si è parte di un sistema occidentale. Perché smettendo di mandare armi usciremmo dalla Nato, questo non è mai stato in discussione, ci sono paesi che fanno parte della Nato e dell'Unione Europea che non mandano armi e nessuno le ha mai sbattute fuori, basterebbe stare nella Nato in posizione eretta anziché a 90 gradi o a 90 draghi. Ha i giochi di parole che nel tuo libro sono numerosi e rendono l'idea del tuo pensiero, quello non ti si può mai disconoscere questa capacità, però non è che se smettiamo di aiutare la resistenza ucraina finisce la guerra. Ma nessuno ha mai detto una sciocchezza del genere? Questa fa parte di quella caricatura che la propaganda bellicista ha costruito e ha appiccicato addosso ai pacifisti che non hanno neppure più il diritto di definirsi pacifisti perché vengono squalificati come pacifinti o finti pacifisti, come se i veri pacifisti fossero i fautori delle armi. In realtà del negoziato parlano persone molto concrete e molto poco anime belle, ne parla Kissinger che a cent'anni è più lucido di gente che ha la metà dei suoi anni, ne parla Naftali Bennett, l'ex premier israeliano che ha raccontato come nell'aprile e maggio scorso si era tanto così da un cessato il fuoco concordato tra Ucraina e Russia e chi lo fece naufragare, gli americani e gli inglesi. Nel libro ha colpito anche me, scrivendolo, quante volte siamo arrivati a un passo da un cessato il fuoco. Ti ricordi quando gli ucraini e i russi si incontravano allo stesso tavolo nei primi due mesi di guerra, prima a Minsk in Bielorussia e poi in Turchia e ti ricordi che a un certo punto quel tavolo andò deserto e non è mai stato più popolato? Non erano mica degli squilibrati, ci sono decine di interviste in cui Zelensky dice che è pronto a rinunciare all'entrata della Nato, ci sono interviste in cui Zelensky dice lasciamo da parte l'Ucraina, scusa la Crimea, appena lo dice interviene Stoltenberg e gli dice questo no, come se Stoltenberg avesse qualcosa a che fare con la politica che decide Zelensky per il suo paese. Cioè noi non possiamo fare finta che in questo anno non è successo niente, in questo anno è successo di tutto e noi facciamo sempre finta che siamo ancora al 24 febbraio, ne sono successe di cose, ne abbiamo capite di cose, abbiamo capito che in questo momento agli americani, agli inglesi, ai polacchi eccetera interessa una cosa diversa da quella che interessa ai francesi e ai tedeschi, infatti i francesi e i tedeschi stanno continuando a dannarsi l'anima per fare in modo che si vada a un negoziato, non sulla base dei fiorellini e delle anime belle, sulla base di cose concrete, poi è chiaro che i negoziati non si fanno con le dichiarazioni pubbliche, nessuno scopre le carte nelle dichiarazioni pubbliche, però bisogna ritrovarsi lì, ecco perché sarebbe importante che l'Italia tornasse a pendere dalla parte di chi vuole il negoziato, perché in Europa è anche una questione di rapporti di forze, se noi aiutassimo i francesi e i tedeschi anziché fiancheggiare gli americani, i polacchi e gli inglesi, probabilmente l'Europa avrebbe più forza.